bella a tutti i free withers questo brevissimo video per ricordarvi che già da un po' è attiva la possibilità per chi ci volesse seguire e volesse partecipare anche economicamente al supporto delle nostre iniziative insomma attrezzature lo sbatti il tempo l'informazione e anche la presenza poi il materiale tutto siti web insomma tutto il lavoro che c'è dietro se volete premiarlo e supportarlo ovviamente si può fare da oggi in un modo diretto con l'abbonamento a questo canale 4 euro 99 al mese rimane fisso ovviamente fino a quando volete voi ma è fondamentale per diffondere informazione per supportare il nostro lavoro se credete in noi questo è un modo importante per supportarci bella a tutti i free withers fino a libertà grazie a tutti i free withersi